Weila, eccoci qua con il nostro consueto Bitcoin Update siamo sempre qua, sempre nel solito livello che incredibilmente se guardiamo il CME in teoria ha fatto un piccolo tentativo di rottura rialzo vedete, a differenza di tutti gli altri grafici ha fatto una sorta di piccola rottura rialzo mentre su tutti gli altri grafici siamo ancora qua cioè siamo in questo incredibile, praticamente quadruplo top perché anche questo insomma è arrivato lì e non riusciamo a passare, non riusciamo a passare e i tempi sono praticamente scaduti adesso oggi è il giorno del ringraziamento ringraziamo chissà chi, ringraziamo, vabbè lasciamo perdere ecco, tempi ci sono tutti, qual è il problema? è che le figure di quadruplo, quintuplo praticamente perché cioè, questi su tutte le stesse aree top, sono strane cioè non è che esista, esista diciamo, facciamo il triplo, quadruplo, quintuplo e invertiamo generalmente vanno sempre a pescare prima perché qui hanno incastrato una marea di liquidità tra long e short no, prima di fare la mossa short che comunque è debole cioè se no saremo già su cioè si vede che l'asset è debole e vuole invertire ma prima di invertire fanno sempre la mossa fanno sempre la mossa infatti se si guardano anche tipo le possibili liquidazioni cosa che io non guardo quasi mai vedete questa roba qua ci sono milioni e milioni di posizioni potenziali da liquidare sui 38.000 poco sopra questa, proprio quest'area qua tac, diretta quindi a me pare molto strano capito? che anche se siamo pronti a un'inversione di medio-lungo prima qui ad esempio avevo già strutturato tra l'altro uno shortino nel caso mi andasse a rompere questo ultimo qua questo ultimo bottom qua che per fortuna vediamo perché magari l'opdia adesso non è andato a rompere per ora anzi per ora sembra che abbiamo ripreso una piccola strutturina rialzista aspetta che metto stop agli alert se no poi viene sempre il casino mettiamo un attimo stop all ogni due secondi può darsi che inizino a fare clic 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 ok però avete capito quando ci sono queste strutture qua di bottom di top la pesca prima dell'inversione arriva quasi sempre quello è il problema mi pare strano che si inverta da qui senza un ultimo tentativo vero di rottura sarebbe molto 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 strano molto fuori statistica perché devono anche innescare la mossa per innescare la mossa servono dei soldi serve liquidare le persone serve prendere la liquidità quindi se anche vogliono innescare la mossa ribassista è molto probabile che tutta la liquidità che è incastrata qua dentro prima la squisino a rialzo no? quindi poi ci entrano anche i sistemi di volatilità entrano quelli che entrano a rottura quelli che avevano incanalato un sacco di short qua rischiano di essere tutti liquidati parte la mossa che è soltanto una mossa in short squeeze assolutamente cioè non è una vera mossa razzista arrivati qui fanno una marea di ordini a mercato per rompere il livello no? e come praticamente arrivi vicino alla trincea che questo qui è praticamente un muro di cemento armato no però sai che rotto il muro di cemento armato non c'è nulla per chilometri tu rompi il muro di cemento armato usando tutte le munizioni però poi praticamente ti fermi tutti questi soldatini che corrono qua corrono praticamente senza fucili senza munizioni eccetera quindi li mandano a sacro a un certo punto arriva la contropensiva si mettono anzi in ordini a mercato tipo short quindi qui distruggi la liquidità degli short poi ci sono quelli che entrano a rottura e vanno long appena vanno long fanno una mega candelona e bam vengono distrutti anche loro no? e invertono allora finalmente c'è quel diciamo climax tale per l'inversione non c'è qua cioè è molto strano capite che che continua a sbattere qui vorrà invertire di lungo? sì ma non si inverte di lungo così cioè poi ovvio tutto è possibile magari arriva una news o qualcosa ma anche con le news fanno la mossa andiamo a vedere anche il passato andiamo a vedere il passato mettiamo un time frame più alto vediamo il passato innanzitutto vediamo anche l'inverso no? quando ad esempio sei in ritracciamento cos'è che succede? è uguale no? cos'è che abbiamo fatto qui? vedete quando abbiamo fatto il crollo quando abbiamo fatto i 30 no aspetta dobbiamo farlo vabbè comunque si va bene così va bene anche vederlo così qui era quando abbiamo fatto ad aprile i 30k no? vedete dal contrario si sale si sale si sale si rimane bloccati qua cosa fanno? la mossa sembra che tutto vada to the hell e poi invece invertono rapidamente e bam vedete qui bloccati in questo livello però non si inverte finché non fanno la mossa che comunque non è una mossa non indifferente ti fanno un meno 5% meno 4% e poi invertono violentemente stessa roba è successa qui poi siamo andati qui di nuovo anche sui top vedete abbiamo fatto subito il pump poi siamo rimasti qua incastrati non andavamo oltre no? non andavamo oltre non andavamo oltre mossa piccolina questa però comunque c'è una mossa vedete no? rottura a rialzo comunque non sembra piccola insomma un 1-2% te l'ha fatto rispetto a diciamo le chiusure dei top qua e poi soprattutto rispetto a qui era una bella mossa perché è partita diciamo diciamo dalla rottura di questo comunque si è fatta un 3% e poi ha invertito no? non ha invertito senza fare la mossa la mossa rialzista poi qui inverte tutto no? sempre grafico inverso per vedere anche i bottom come fanno vedete crash tatatatata di qua non si passa non si passa non si passa non si passa mossa e inversione di nuovo è sempre così quello è sempre così anche sui top che abbiamo visto del 2021 guardiamoli come bottom il top qua no vedete rimane qui rimane qui mossa inversione anche nel 2000 e a maggio sostanzialmente già al primo pump eravamo quasi arrivati al primo pump poi abbiamo fatto tutta la seconda parte vedete quanto tempo è stato in questa lateralizzazione da qui a qui sostanzialmente è stato nella stessa lateralizzazione anche qui qui non ha rotto no? quindi è stato 30 giorni nella stessa lateralizzazione mossa rialzo inversione quindi se prendiamo quello che sta succedendo adesso è difficile avere che stiamo qui per ormai un bel po' tra l'altro quanto tempo è che siamo qui per 13 giorni e invertiamo così cioè senza aver prima provato l'ultimo assalto e ritracciamento e inversione no? a me non non torna sta roba cioè mi da cioè anche perché cosa fai ti metti short e dici boh shortiamo dove lo metti lo stop perché quando fanno la mossa vanno su diciamo in modalità short squeeze liquidano ho capito che qui abbiamo tanti livelli infatti ci sono tutti ordini passivi con vari setup per vedere tutte le varie potenziali possibilità di cui vanno fin qui e basta eh dov'è che vanno no ogni tanto questa roba vanno fin qui e basta no ogni tanto non vuol scrivere non lo so perché questa roba si è un po' bloccato ecco torniamo un po' di schifezza vediamo se ce la facciamo esatto vanno fin qui e basta vanno ancora più forte vanno ancora più forte però vai un po' a fare l'indovino diciamo perché poi se adesso anche qua io mi mettevo short qui comunque ero costretto a mettere come minimo lo stop loss quassù cioè non è che sia un setup ho capito che se poi è uno short di lungo è bello però non è che è un setup che mi faccia impazzire onestamente cioè allora se devo mettermi short in questo modo guardiamo proprio come i classici grafici inversi di quando arrivano i bottom e dici boh siamo al bottom allora a sto punto vabbè aspetti le rotture e ti entrerai ovviamente a livelli più bassi di short 35 entrerai qui 34 oppure a qui ti fa l'ultimo rimbalzo perché qui di solito insomma è l'ultimo livello di supporto qui sembra resistenza perché ho il grafico inverso no però questo è di solito gli ultimi livelli di supporto quindi fa l'ultima reazione e quindi non so magari entri allora a questo punto al ritracciamento va bene però entri a conferma qui nei fatti di conferma di inversione non c'è ancora c'è solo debolezza quello si perché comunque cioè siamo un po' bloccati qui qui c'è si capisce che c'è un bel muro eh però io se voglio entrare diciamo con un setup aggressivo voglio vedere questo voglio che arrivi qui no ho già tutti gli ordini passivi ricordo sul telegram io scrivo tutto tutti i setup tutti abbiamo tutti i setup gran parte degli ordini visto questa volatilità qua gran parte degli ordini che ho dentro tra l'altro sono tutti gli ordini passivi perché avevamo gli ordini passivi sul settimanale sul giornaliero che semplicemente entravano ai livelli quindi di discrezionale ho fatto gran poco da qui in poi e tra l'altro certi discrezionali che ho voluto spingere un po' mi sono anche dati in stop gran parte degli ordini che sono dentro sono tutti i livelli chiave già messi passivi detti su telegram che io su telegram scrivo ad esempio ordine passivo no se mi torna qui ipotesi che eravamo qui c'era un ordine passivo che tra l'altro che era ovviamente sotto ad esempio questo minimo qui qui c'è lo spike quindi questo è il vero livello e era anche andato in drawdown perché l'ordine passivo chiaramente è passivo cioè vai sul livello però magari te lo sporca no però sono tutti rimasti dentro io c'ho una marea di ordini passivi qua perché quando eravamo qua su qui ho detto vabbè se fa il ritracciamento il retest qui che poi c'era gli app del CME se vi ricordate c'era gli app del CME c'era il livello chiave vedete qui era qui praticamente l'ordine passivo qui alla chiusura del gap al POC perché qui anche qui sul CME tra l'altro c'era un bel livello anzi non sono sicuro vediamo vediamo come sono i volumi vediamo l'insieme del CME vediamo sì vabbè sono sempre qui vedete i livelli qui c'è il volume vedete ha fatto solo delle pesche quindi ovviamente il livello passivo tu magari sei a pesca io vi do i livelli passivi su Telegram con il setup che era così e voi siete a pesca vi entrano ovviamente possono andare un po' in drawdown ma cioè non è che la precisione chirurgica magari è più preciso se fai il discrezionale però ripeto il discrezionale c'è la possibilità di sbagliare prendendo delle scelte più soggettive invece che oggettive no? con questa volatilità qua io sostanzialmente ho soprattutto ordini passivi e ordini basati sull'indicatore ciclico no? l'indicatore ciclico che è tornato vedete sul settimanale sostanzialmente da qui in poi ha fatto questa sorta di fake però è rimasto comunque sempre positivo l'indicatore ciclico sul settimanale e viceversa quello invece sul trimestrale vedete è un disastro ci fa capire che non ci siamo perché quando invertirà questo ovviamente quando invertirà non è neanche detto perché alle volte inverte anche bene perché non è solo la media mobile quelle robe lì c'è in mezzo anche la volatilità ciclica il momentum insomma è un po' un mischiotto di cose insomma hanno fatto un bellissimo indicatore io l'ho settato con i miei tempi però bisogna andare atto a chi l'ha costruito ho fatto un lavoro proprio galattico su sto indicatore io l'ho settato solo con i tempi giusti eccetera perché se non lo senti con i tempi giusti qualsiasi indicatore oscillatore se prendi quelli originali che sono settati così e poi cosa fai vai sui time frame a caso ti danno solo falsi segnali bisogna che siano proprio settati a seconda di quello che vuoi proprio cercare questo è settato secondo le tempistiche di un trimestrale ok e secondo le tempistiche di un trimestrale vedete da quando abbiamo fatto il primo pump qua è come se avessimo finito poi si sale in wedge perché questa è sostanzialmente una wedge sono un canale rialzista scarso se lo andiamo a disegnare se lo andiamo a disegnare prendiamo un grafico super pulito c'è sempre il mio storico qua che ho in storico ogni tanto faccio questo comunque se andiamo a disegnare soprattutto l'ultima parte vedete è così è praticamente così c'è una sorta di wedge cioè che dopo prima o poi magari ti fa la falsa rottura rialzo però poi ti distrugge tutto e comunque anche il canale riazista è sempre più scarso perché qui non sta più andando nel top del canale questo l'ho già disegnato il canale qua sono quasi le più pericolose perché sono quelle che ti invertono all'improvviso fanno capire che c'è debolezza e ti invertono all'improvviso perché quando rompono la struttura poi ti rompono all'improvviso male molto male viceversa quando magari c'è una flag alle volte è più probabile che sia di di riaccumulazione e continuazione quando c'è una wedge è un esaurimento proprio del movimento che tentano ancora di spingere magari proprio perché vogliono arrivare a certi livelli che ancora non ci sono arrivati però poi arriva lo scattafascio no? è come anche con il contrario quando vai a vedere le altcoin prendiamo la total 3 la total market senza bitcoin e senza etico cioè generalmente cos'è che fanno? diventano morenti però poi hanno già raggiunto dei livelli chiave però vedete c'è qui c'è praticamente il crash se lo guardiamo al contrario guardiamolo al contrario per capire no? vedete qui c'è il pump e poi questo va su va su va su va sostanzialmente non va più da nessuna parte no? e poi c'è il rischio di inversione qui va su va su va su e la tava giù va giù poi quando inverte non ti avverte diciamolo ti inverte cattivo pam no? sono peggio le wedge da da trarre anche perché poi non si sa quanto lunghe sono e quando invertono ti fanno un disastro nucleare praticamente ti invertono e ti trovi sotto i piedi in tre secondi pericolosissime ecco adesso volevo vedere un attimo la situazione qui vediamo nel brevissimo perché comunque c'è c'è una sorta di piccola rottura sì piccolissima siamo proprio nel brevissimo però siccome ho questo bias ancora rialzista per i motivi che vi ho detto io rimango ancora praticamente full long dentro cioè a me di fare i livelli intermedi qua in mezzo non mi interessa voglio vedere una mossa e basta se mi fa la mossa rialzista bene take profit a target entrano tutti gli ordini passivi short se non me la fa piuttosto andrò in stop a zero su tutto quanto faccio qualche perde eccetera aspetterò le conformazioni per lo short di lungo però anche se sono entrato al livello che vi ho detto qua con gli ordini passivi cioè qui non ho preso niente io voglio vedere la rottura di fare questa roba qua da qui non è che mi interessasse più di tanto è chiaro che qui continua la debolezza infatti ho detto se scende sotto questo minimo visto che comunque ho delle briciole di guadagno uscirò ma non esco perché sono super spaventato perché comunque questo qui potrebbe di nuovo fare un ritracciamento e boh cioè a me interessa vedere sto cavolo di livello qua anche perché avete visto quante liquidazioni ci sono sopra in questo in questo liquidation ritmap che io non è che seguo molto alle volte però è proprio un target come dire cazzo c'è il nostro premio quassù adesso siamo al ringraziamento tutti gli americani si stanno strafogando col tacchino mezzi ubriachi eccetera ma rivedono che c'è un bitcoin eccetera vengono lì guarda compriamo bitcoin eccetera vanno su li portano su li portano a comprare e poi li invertono in faccia e vanno su tutti ubriachi cioè non è che siano tanti complottismi sono già successe queste robe però nei fatti adesso gli operatori sono inferiori quindi se fanno una mossa rialzista ci siamo ci siamo fanno una mossa improvvisa rialzista ci siamo perché quello che dicevo ieri nell'ultimo video era questo allora oggi siamo a giovedì i mercati americani sono chiusi no ieri è come se fosse un venerdì quindi io dicevo allora se facciamo finta che è venerdì no e noi ci troviamo qui da queste parti chiudiamo i mercati americani qui vi ricordate detto qui si chiudiamo qui allora la cosa non è carina non è tanto cosa buona e giusta perché perché ci ritroviamo troppo sotto allora dopo quando non ci sono le equità nel mercato cosa fai massimo lateralizzi qui perdi una marea di tempo già abbiamo perso una vita al momentum che non riusciamo a superare rischiamo l'inversione anche senza aver fatto la mossa che ho detto ma hanno spinto fin quassù e quindi ci siamo trovati proprio nella nella prossimità della rottura dei top no e a questo punto da questa posizione qui non è difficile fare un'aggressione al mercato no mentre non ci sono mentre c'è poca liquidità mentre i book sono leggermente scarichi mentre la gente è distratta mentre i grandi operatori non ci sono fare una grande mossa al mercato mentre praticamente ci sono c'è poca poca attenzione e per andare fino a questo target qua distruggere gli ordini che ci sono qui andare a target e invertire tac no è più facile lo puoi fare perché perché cioè sei già lì e ti basta una mossa se invece sei qui ovviamente non ce la fai perché comunque difenderanno due livelli qui basta difenderne uno difendi uno lo rompi prego lo rompi 38 avete visto quante liquidità c'è sopra sbabam ti parte perché vedete proprio qui siamo a 37 960 cioè sei a un niente a un niente da fare l'ultima mossa poi è ovvio che se non la fa non la fa mi pari strano ripeto non è che voglio avere la sfera di cristallo però finché non mi fa sta mossa io rimango rialzista a meno che ripeto a meno che non mi fa la mossa e ovviamente poi mi fa le inversioni di lungo perché se mi fa non mi fa la mossa ma mi fa le inversioni di lungo come ho detto ripetiamo mi fa questa roba qui non vuol più farmi la mossa no mi ritorna qua in teoria ancora qua ci siamo no perché può fare ancora una pesca e andare però stiamo proprio perdendo tutto il momentum però vabbè diciamo che ci siamo ancora perché rientra nel canale va bene ma se non mi rientra più nel canale ed è facile capirlo ormai perché il canale ormai è talmente vicino e siamo sempre più vicini alla base dove il canale è fatto bene qui è troppo confusionario perché è quello di breve ecco siamo sempre sulla base più vicini alla base che al top qui abbiamo fatto le pesche di top siamo sempre più vicini alla base si sta appiattendo qui adesso diamogli l'ultima possibilità teorica fa una pesca ancora qua e rientra ok cioè l'ultima delle ultime dell'ultima delle ultime delle ultime va bene ok va bene ma è chiaro che se invece poi adesso inizia proprio a romperti il canale tipo ti fa così ti rompe anche questo minimo ti ritesta questo poco qua ci sarà la reazione perché guarda qui l'ha solo sfiorato e ha subito reagito e è andato versi massimo qua ci sarà sicuramente la reazione no e quindi qua anche un longhettino si può riprovare perché magari hanno fatto una manipolazione a ribasso ultima facciamo finta però poi se la reazione si incastra e non va e fa solo un retest al basso di questa zona e ovviamente poi inizia a invertirti o cioè i 10.000 conferme che puoi anche entrare short di lungo allora se devo entrare short di lungo entro quando vedo sta roba qua no cioè è facile poi non è neanche detto che ti facciano questo per carità perché anche questo è un altro regalo sostanzialmente magari ti invertono già cattivi perché anche quello sarebbe una sorta di regalo perché è chiaro però il punto è questo il fatto che invertano cattivi è più probabile che succeda se vanno a target perché tutti quelli che sono entrati qui e quelli che sono entrati qui molto probabilmente hanno il target quello che abbiamo detto tutta questa zona qui no quindi quando va in rottura loro sono come me sono contenti dicono boh abbiamo messo gli ordini siamo arrivati ad obiettivo e adesso sapete cosa vi dico prendo un po' di profit mi metto in stop a zero e pim pum pam no facendo questa roba qua quando poi fanno una mossa e si torna qua che dici qui dovrebbe esserci reazione perché ci sono i volumi eccetera questi volumi spariscono spariscono perché la gente quasi tutti hanno già preso il target no e quindi non gli interessa quasi più difendere questi volumi avete capito il senso che bisogna spiegarle queste cose no se loro fanno la mossa rialzista tutti quelli che sono entrati long qua e long qua sono soddisfatti no quindi quando il prezzo ritorna qua ci sarà un po' magari di resistenza non dico di no ma ce ne sarà molta meno perché tutti quelli che hanno preso i long qui volevano questo target qui e basta quindi hanno preso magari anche solo 50% di profitto il resto dicono se mi torna qua mi metto in stop a zero cosa significa mi metto in stop a zero che se hai comprato qua e ti metti in stop a zero basta che il prezzo faccia così sei già fuori liquidazione no arrivi qui ci sono questi ho preso 75% di ordini qua quando mi è tornato qua ho preso un po' paura ho fatto un tre di stop perché non si sa mai no arrivi qui e c'è non c'è questi volumi qua ci sono questi volumi qua difendono un minimo e dicono oh se mi va sotto il mio ordine vado in stop a zero boom se mi va sotto il mio ordine mi metto in stop a zero boom qui c'ho l'ultimo stop no l'ultimo ultimissimo allora qui l'ultimo stop magari ti fa un minimo di resistenza perché magari c'è ancora qualcuno dentro diciamo proviamo a fare un attimo un po' di attacco attacchiamo un attimo quest'ordine così mi torna qui e qui lo vendo perché ho già capito che qua l'andazzo non mi piace e a quel punto bam no senza neanche fare i rimbalzi viceversa se noi non facciamo la mossa rialzista cosa potrebbe succedere che comunque ci sono un sacco di operatori grossi ancora long qua no grossi non vedo gente piccola ci sono grandi volumi allora se ci sono grandi volumi e non ha ancora fatto la mossa che deve che tutti si aspettano e che tutti hanno puntato per quello non il retail anche operatori grossi quando ti torna qua tentano ancora di difendere perché vogliono fare la mossa per assurdo non hanno ancora fatto il top ti va qua qua difendono di brutto e dicono io voglio provare a fare sta mossa arriva qui magari poi effettivamente non ce la fa e mollano ok però ti fa la grossa reazione viceversa se va prima su poi giù non ti fa le grosse reazioni infatti cosa succedeva anche con i bottom no quando ti facevano la mossa di poarta basta vedere sull'ultimo trimestrale poi non c'era più reazione qua qui c'era un mega poc guardate qua che volumi ti ha rotto a ribasso e poi qui non c'era quasi più resistenza anzi ha subito rotto praticamente dopo un minimo ha subito rotto e qui sono spariti questi volumi se erano short spariti completamente non ne fregava più niente magari tanti hanno preso profitto qui e si sono anche girati appena hanno visto la malparata ho fatto no e mi giro e quando arriva qui non ci sono più volumi questo è il senso però perché perché prima erano andati a target no prima avevano preso il target e poi i volumi sono spariti ma se non vanno a target e continuiamo a stare qui ogni volta sarà un punto di domanda anche in caso di rottura strutturale bisognerebbe aspettare proprio l'ultima perché se rimaniamo nel punto di domanda avete capito è una rottura di palle lo dico chiaro è tondo una rottura di palle perché ormai siamo qui appiccicati e dovrebbero provare a tentare questo rialzo e saremo tutti contenti ovviamente perché andiamo a target qui c'è primo ordine short tutti i passivi questi short perché cosa succede qua qua bisogna mettere gli ordini passivi anche se i rischi che possono andare più su eccetera per il semplice motivo che potrebbe essere una roba che capito rompono rompono tu sei al cesso a cagare boom aspetta che hanno rotto aspetta che esco aspetta che arrivo c'è l'alert e ti trovi già qua ci possono fare una roba talmente veloce che non hai neanche tempo di prepararti quindi è bene qui secondo me avere gli ordini passivi c'ho l'ordine passivo qua vedete c'è anche più in alto nel caso cioè li ho messi tutti su telegram tutti i target uno due tre tutti su telegram posso anche cancellarli tanto sono salvati su telegram io poi li ho già messi dentro in macchina non devo fare niente no poi vabbè anche discrezionalmente invece discrezionale cosa fa cioè dovrebbe perché ho capito può succedere così però ma nella realtà poi cosa potrebbe succedere che ti trovi ad esempio ti fa lo squeeze magari senza togliere tutta questa roba magari ti fa lo squeeze questo è praticamente il super livello chiave ma te lo schizza te lo schizza un po' su ti arriva fino a ipotesi un 40k magari non qua su no ti arriva perché è troppo debole secondo me arriva qui ti schizza un po' qua ti fai 40k psicologici no e poi vedi una robetta così e poi te discrezionale dici boh mi sta rompendo la trend mi fa un lower high sul tre ore eccetera e io inizio a mettermi uno shortino così ipotesi come magari solo livello chiave sopra qua e riesci a posizionarti se una roba del genere e magari è la vera inversione e tu riesci a posizionarti bene in questo modo e da qui capito ti puoi fare un trade che è quello che è il sogno il cassetto che ho già fatto il contrario quando ero a mua sotto e ti fa l'inversione di medio non diciamo di lungo ma di medio in cui ti torna alla base e con un tradino così ti fai un trade sostanzialmente 1 a 12 metti 100 dollari ti tornano 1200 dollari in realtà un po' meno perché poi cosa succede? ti prendi un take profit qua take profit qua ti arriva fino a giù take profit qua hai il 25% come dico sempre per il to the moon quindi ti fai ipotesi 1200 però poi se rompe anche qui puoi farti ancora va bene perché poi come abbiamo visto il target di lungo se inverte col biennale come abbiamo visto nell'ultimo video sarà un po' più prolisso ma siamo nei momenti cru bisogna capirle tutte queste cose se inverte di lungo come ho già detto prendiamo il grafico del CME che è più chiaro se inverte di lungo quando fanno un biennale il minimo come abbiamo detto prendiamo il CME quello là non sporcato ripetiamo perché magari nessuno mi vede tutti i video tutti i giorni quindi ripetiamo le cose principali a parte le robe di breve se fa l'inversione di lungo col top del biennale il minimo che deve fare ma minimo aziendale quindi può far peggio minimo aziendale è la rottura di un bottom di un ciclo trimestrale precedente no quindi da qui dove siamo siamo ipotesi sui 40 magari lo schizzato a rialzo fino a 40 quindi da 40k puoi trovarti tranquillamente sui 21 20 22 20 è il 50% è 50 puoi fare il 50% di ribasso tranquillamente perché poi basta vederlo come abbiamo fatto ieri questi sono i disegni che abbiamo fatto ieri questo è il primo movimento chiusura del quadriennale primo movimento secondo movimento e poi si va giù no in questo secondo movimento vedete bene che disastro che disastro che ci sta tutto poi può darsi che lo faccia non in un unico movimento come abbiamo detto ieri che vabbè queste sono cose importanti preferisco ripeterle potrebbe farlo in due cosa significa che magari stiamo ancora abbastanza tranquilli anche per dicembre gennaio quindi ti fa una roba così no ma ti fa anche un bel lower eye un bel ritest così e poi ti inverte va bene può essere quindi qui questa zona qui stiamo ancora relativamente tranquilli con una mini alt season pittuano comunque a livelli decenti anche qualcuna fa ancora qualche top niente di che poi ti fa il crash questa roba qui è successa con la bull run della prima parte della bull run del 2021 ad esempio non ha fatto diretto così ha fatto un rimbalzo andiamo a vedere la bull run del 2021 perché il top del top ha fatto il disastro perché tra l'altro era proprio il top del quadrenale inverso questo top del quadrenale inverso appena invertito ha fatto il disastro guardate che roba senza neanche proprio passare via qual'era poi cosa abbiamo detto qual'era il minimo che doveva fare la rottura di un trimestrale di un bottom di un trimestrale e ha rotto direttamente il bottom del trimestrale no? vedete quello era il minimo che doveva fare e l'ha fatto qui invece ha fatto un doppio movimento in realtà prima ha fatto il top poi ha fatto il crash che comunque aveva rotto qui questo è più una sorta di mezzo trimestrale perché la teoria doveva rompere questo infatti diciamo molto probabilmente sì no e doveva rompere questo in realtà per un biennale però questo probabilmente era solo un annuale però insomma doveva rompere comunque un minimo innanzitutto e l'ha rotto questo questo era il nostro target però prima di romperlo ha fatto il rimbalzo e poi l'ha rotto no? quindi possono esserci due possibilità magari adesso andiamo solo in crash così che cosa significa a oggi fare una roba del genere significa che magari anche solo così possiamo fare non è che magari possiamo anche fare solo così guarda solo così arriviamo qui e rimaniamo decenti anche per Natale no? può essere ovviamente non è che dobbiamo per forza andare giù 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 arriviamo qui e rimaniamo decenti per Natale lower eye poi andiamo giù di cattiveria anche se onestamente per me è più probabile che andiamo giù diretti cioè se adesso facciamo una pesca soprattutto andiamo giù diretti tipo vabbè magari fa un minimo di reazione per carità però è una roba veloce ci troviamo velocemente qua cioè non ti accorgi neanche che un giorno eri a 40k e il giorno dopo dici cazzo non abbiamo perso i 30 secondo me è più così omestamente però insomma se il mercato si tiene fortissimo tipo il Nasdaq va su continua ad andare su il Standard & Poor continua ad andare su eccetera viviamo di luce riflessa e riusciamo a rimanere un attimino positivi anche noi questa è secondo me più che altro però come ho detto il 4 dicembre del 2021 barra 4 dicembre del 2023 dietro l'angolo perché se adesso anche qui vedete esempio questo è lo Standard & Poor come adesso ovviamente tutti i long però qui iniziamo ad avere i top cosa può succedere e adesso siamo ancora bullish arriviamo in questa zona qua e non è che deve fare un grosso scatafascio ma diciamo i primi di dicembre fa un bel ritracciamento per il mezzo trimestrale no? e si ritrova qua non è successo niente non è successo niente riprende i volumi no? fa solo una rottura viene rigettato dai top fa una sorta di rottura retest si ritrova qui che problema c'è no? non è che i mercati collassano è un normale ritracciamento fa così fa così schizza un po' non riesce a rompere bene torna qua perché cavoli sono i massimi assoluti questi faranno bella resistenza si ritrova qua e poi magari ci provano per Natale e i primi di gennaio a rompere ok? questa qua se noi siamo correlati bearish è la nostra fine è la nostra fine perché succede la stessa roba che è successa a dicembre del 2021 che noi eravamo già correlati bearish perché abbiamo fatto tutto il movimento precedente no? andiamo a prendere ah no perché sono su siemi prendiamo il bitcoin storico dai sappiamo che di solito almeno qui c'è sempre la prize action ecco ricordiamoci di nuovo che è successo il 4 dicembre del 2021 no qui eravamo già correlati bearish qui abbiamo già fatto il top qui siamo alla seconda metà di novembre riusciamo a tenere ok? poi cosa succede che nei primi di dicembre il mercato azionario fa un ritracciamento no possiamo anche far così direttamente eccolo qua vedete fa un ritracciamento insignificante una sorta di ritracciamento insignificante eravamo ancora bullar ma questo ritracciamento in correlazione bearish al mercato ha fatto solo vedete una sorta di retest ed è ripartito a noi ci ha distrutto completamente ci ha proprio massacrato e poi non ci siamo più ripresi quando abbiamo fatto il rimbalzo lo standard pure ha fatto l'altime vedete siamo correlati ancora un minimo bearish e poi quando il mercato ha mollato abbiamo mollato definitivamente anche poi i rimbalzi sono più o meno correlati quando abbiamo fatto i 48k aveva fatto un bel rimbalzo anche si aveva fatto un bel rimbalzo anche lo standard in pulpe mettiamolo più armonizzato ecco così questo è il problema che adesso stiamo comunque positivi perché il mercato è positivo ma basta un ritracciamento un po' più grave e siamo fottuti e poi c'è anche la questione del DXY la questione del DXY che vabbè qui togliamo il nostro standard pure c'è la questione del DXY che sta raggiungendo dei livelli chiave vedete qui adesso sta lottando il DXY non sta più facendo una caduta libera anche lui potrebbe continuare il ritracciamento assolutamente sì ma cosa potrebbe fare potrebbe fare il rimbalzo e chiudere un po' di inefficienza e poi magari fare una cosa del genere e poi ripartire magari però se fare una roba del genere capite anche qui che è un disastro per Bitcoin e ci siamo perché anche qui vedete il DXY è partito un settimanale e anzi stavo proprio vedendo perché io ho chiuso per chi fa il Forex io ho chiuso tutte le posizioni sul Forex tutti gli short contro il dollar sul Forex perché qui è partito molto probabilmente un settimanale no adesso sembra che sia ancora in debolezza per carità qui probabilmente questo guardiamolo al volo così riusciamo anche a capire se riusciamo ad avere l'ultimo sprint o no perché se questo adesso parte a rialzo ci distrugge qui probabilmente è un giornaliero qui troppo corto quindi probabilmente sai cosa fa parterebbe a fare l'ultimo l'ultimo touch così e qui magari adesso riusciamo a fare l'ultimo rialzo però non so siamo veramente siamo veramente deboli comunque sì anche il dollaro non sta dimostrando grande forza quindi per carità per ora è ancora appiattito lì siamo arrivati a un livello che si poteva chiudere tutto siamo appettiti lì e adesso guardiamo sul brevissimo sul brevissimo ha fatto questa piccola rottura del sul proprio cicli giornalieri qui sarà un video lungo però tanto siete già insomma tanto abbastanza abbiamo dato tante informazioni 12 ore questo è il mezzo giornaliero inverso e adesso qui bisogna vedere abbiamo tipo altre 12 ore per capire arriverà di nuovo sopra questi questi massimi o no qui di sicuro è che si è invertito è invertito qualcosa quindi è anche probabile che sia partito una sorta di giornaliero molto lungo perché se adesso noi teniamo con questo 3 ore qua teniamo il minimo qui vedete c'è un bel ciclo a due tempi sostanzialmente ed era lungo infatti 16-17 ore e quindi siamo andati oltre 34 ore ci sta per questo io non è che sono uscito diretto impaurito perché avevo capito che qui comunque poteva fare questa merderia ok perché deve chiudere questa onda adesso ha chiuso questa onda ha dato i primi segnali di rialzo qui molto probabilmente a questo punto ha fatto una sorta di cioè lunghissimo non si capisce neanche bene quando sono così si accorpano anche due cicli diciamo da tre ore però sostanzialmente qui probabilmente ha fatto un attimo un piccolo top adesso se qui è partito veramente qualcosa la conferma qual è che questo ciclo da tre ore adesso ci fa un ciclo rialzista sostanzialmente quindi adesso questo è anche bello lungo cosa fa questa è la prima parte qui siamo un'ora e 45 adesso probabilmente andrà in debolezza per un po' se comunque ci tiene questa o comunque tiene questa trend può arrivare anche fino a qui non è che è un reato può anche arrivare fino a qui no la trend è qui l'ultimo livello praticamente dove è partito è qui può anche arrivare fino a qui serve meglio se rimanesse qui ovviamente però ci dà il primo tre ore rialzista dopo una lunga serie di di tre ore o laterali o ribassisti ci dà il primo rialzista e anche il primo inverso rialzista va bene un po' corto questo potrebbe anche essere che era da qui dai che è da qui che poi è partito l'ultimo ribasso ok e quindi abbiamo il primo potenziale canale che diventa rialzista se teniamo questo canale vediamo se a breve riusciamo ad andare qua su perché comunque qui invece l'inverso sembra che stia andando in maniera regolare cioè uno due tre neanche troppo regolare sono solo tre questi però 12 ore qui devo aver missato qualcosa devo aver visto qui probabilmente ce n'era un un top di comunque insomma 12 ore è giusto ecco dovrebbe fare il movimento rialzista se si ferma il lower high qua e che cazzo che palle si ferma il lower high qua e non rompe i massimi e non lo so che dire non facciamo sta mossa ne ancora se invece vediamo che all'improvviso inizia a rompere si ritrova qui che potrebbe succedere anche fra una due tre ore non tra molto e allora vediamo se fanno sta rottura mannaggia a loro mannaggia a loro sarebbe anche ora fanno sta rottura fanno sti liquidazioni ci mettiamo short prendiamo i profitti del long e fine dei giochi per un po' si sono tranquilli perché questi ultimi giorni sono stati un incubo cioè con tutto sto su e giù su e giù sai che non prendi profitto perché vuoi aspettarti la mossa ma arrivano qua invertono che stress perché sostanzialmente come ho spiegato anche in un video con la mia tipologia diciamo di trading eccetera cosa succede vi dico una chicca anche sui profitti che generalmente si fa così quando ci sono queste situazioni qua wedge oppure ribassi così non è che si fanno grandi profitti perché io non è che mi interessa tanto prendere ste robette qua cioè magari si protegge si mette lo stop a zero quindi magari perde meno però non mi interessano ste robe io aspetto che succeda questo quindi magari inizi già a posizionarti qui e quindi tu hai praticamente ipotesi 10k 100k di account parti da 100k fai fatto le prime mosse sei qua poi quando c'è questa situazione qua vai anche te in flag come profitti perdi un 1% un 2% un 3% del conto 4% del conto però ti servono perché così sei subito dentro quando ti succede questo e fai boom bam più 10 più 20% del conto no se tu non ti metti qua e fai mille tentativi ad esempio eviti di prendere i profitti a 37,5 cioè tu entri qui in tutta questa situazione qua ridicola uno entra qui e dice voglio vedere la rottura magari puoi prendere un profitto qua sul primo pump ok però ad esempio da qui in poi cosa prendi il profitto qua non voglio vedere la rottura se no cosa entro a fare quindi qui sostanzialmente sono giorni che non 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 becco una sega becco anche dei piccoli stop di breve tra l'altro no e quindi il mio account sostanzialmente sta andando in drawdown no magari ho fatto i guadagnati prima e qui sto facendo così da giorni faccio meno 1% meno 5% eccetera però se tu non riesci a metterti qua e stai dentro quando ti arriva la rottura allora godi poi ti inverti se invece prendi i profitti intermedi e poi magari arriva la rottura ho capito c'è il 20% 50% oppure hai preso troppo profitto non sei dentro quando inverte perché lo fanno solo fare da un momento all'altro da un momento all'altro quindi è chiaro che in questo periodo è una rottura cioè non si prende non si prende neanche un profittino però bisogna per forza sforzarsi per essere pronti quando veramente invertono non ti mandano il telegramma quando invertono non è che ti dicono eh fra un po' parto perché quando partono tu sei là tranquillo che ti lavi i denti appena svegli la mattina e poi ti 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 bam e vedi una candela così però non te lo dicono prima puoi aspettare 6 giorni 7 giorni 8 giorni tu devi essere pronto però devi essere già dentro pronto se non sei già dentro pronto non lo prendi per essere già dentro pronto tocca essere dentro questi movimentini del cavolo qua per 3 ore aspettando 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 un gioco di pazienza infinita un video lunghissimo godetevelo se avete voglia ciao